43 milioni di euro verranno assegnati dalla Regione per finanziare più di 100 interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, impianti sportivi, plessi scolastici e sedi per il volontariato. Lo ha deciso la Giunta regionale approvando una delibera presentata dall'assessore alle opere pubbliche e difesa del suolo, Marco Gabusi. Nel dettaglio, alla provincia di Alessandria sono stati assegnati 5.715.000 euro per 21 interventi, all'Astigiano 4.366.000 per 11 interventi, al Biellese 3.686.000 per 11 interventi, al Cunese 7.116.000 per 16 interventi, al Novarese 4.552.000 per 14 interventi, al Turinese 9.510.000 per 15 interventi, al VCO 4.019.000 per 14 interventi, al Vercellese 3.967.000 per 15 interventi. Queste risorse si sommano a quelle del 2022, che con 31 milioni di euro hanno consentito di finanziare interventi in 94 comuni. Pubblicati dalla Regione Piemonte i primi due bandi per la resilienza dei territori fluviali, che per la prima volta vedono impiegati poco meno di 12 milioni di euro di risorse del FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per interventi che consentano di migliorare gli abiti attacquatici presenti in fiumi, torrenti, laghi e aree umide. Obiettivo? Superare le criticità climatiche dovute ai cambiamenti in atto, come alluvioni, piogge violenti o siccità, con la realizzazione, ad esempio, di infrastrutture verdi, la piantumazione di alberi sulle sponde e sulle piane alluvionali per trattenere le acque e favorire gli habitat naturali, ricaricare le falde per rinforzare le difese spondali in caso di eventi meteorologici estremi. Il primo bando ha una dotazione di 5.423.000 euro, destinata ad aree in cui si attiva un contatto di fiume, lago o zona umida, l'altro con una dotazione di 6.475.000 euro e destinato ai territori dove non sono attivi i contatti. La chiesura avverrà il 31 dicembre. Possono parteciparvi la città metropolitana di Torino, le province, i comuni, gli enti parco e i gestori delle aree della Rete Natura 2000, gli enti gestori dei parchi nazionali ricadenti sul territorio piemontese. Partiranno centinaia di progetti su tutto il nostro territorio e quindi riusciamo anche a ridurre il rischio idrogeologico e quindi anche a ridurre per l'incolumità pubblica in caso di eventi molto importanti. Veramente sono misure strutturali nel tempo che ci aiutano a prevenire questi tipi di eventi. Rendere il Piemonte primo in Europa per chilometri ciclabili attrezzati è l'obiettivo che si pone la regione investendo 40 milioni di euro per creare nuove ciclovie capaci di consentire ai turisti di andare alla scoperta del territorio in una modalità più dolce e sostenibile. Tre sono le ciclovie già individuate. La corona di delizie, collegamento tra le residenze reali piemontesi, quella delle colline UNESCO e quella del Lago Maggiore. La presentazione delle ciclovie è stata effettuata ad Alba, Turino e Stresa, dal presidente della regione Alberto Cirio e dall'assessore ai trasporti e infrastrutture Marco Gabusi. Un progetto importante perché innanzitutto siamo i primi a presentarlo in Italia perché siamo i primi ad aver avuto approvato il FESR. In questo FESR abbiamo isolato 40 milioni di euro. Questi 40 milioni di euro li abbiamo destinati 30 milioni a tre progetti strategici e i restanti 10 per un totale appunto di 40 a bando per tutti gli altri comuni. L'apertura al Libai che consente di raggiungere una fetta molto più ampia di mercato e di non avere più i limiti di forma fisica. Il volano economico che creano questi tipi di investimenti è stato stimato fino a 400 mila euro a chilometro all'anno di fatturato in termini di recettività, di turismo enogastronomico ed altro. Si amplia l'offerta estiva del Forte di Exil in Valsusa dal 14 luglio al 30 settembre con più spettacoli, attività e visite guidate. Sull'onda dei numeri dell'anno scorso, in poco più di un mese di apertura, quasi 8 mila è visitatori tra turisti e pubblico degli spettacoli. Il cartellone dell'estate 2023 prevede nove eventi dal vivo tra teatro, musica, circo contemporaneo e spettacoli per famiglie. Il Forte di Exil sarà anche tappa della festa del Piemonte voluta dal Consiglio regionale con alcuni appuntamenti immediatamente successivi all'apertura. Per noi non può che essere una grande stagione che mira su grandi eventi ma soprattutto che valorizza una porzione della nostra regione Piemonte ma non solo perché poi di ricaduta benefica su tutto il territorio piemontese quindi continueremo a sostenere anche in futuro quella che è l'apertura di questo Forte a beneficio dei turisti. Forte di Exil.